ciao a tutti ragazzi oggi vi faccio vedere il mio il mio il mio il mio pappagallo eccolo qua si chiama diamantino di cognome rosce a due mesi se voi volete addomesticare ma addestrare questi pappagalli voi se volete continuare cioè se volete fare l'addestramento diamantino cosa stai facendo vabbè si stira volete farlo entro quando avrà cinque mesi dopo che avrà finito lo svezzamento che così crescerà e saprà fare più allenamenti ma fate uno ogni giorno lui ora a due mesi e quindi vi faccio vedere tutto quello che gli serve questo è il dolce questo il panino e questa è pesantissima e la sarebbe la sabbietta per cambiare in terra che voleva mangiare poverino ok vi saluto mettete mettete like iscrivetevi al mio canale e attivate la campanellina per non perdere nessuna nessun video e noi ci vediamo a un prossimo un prossimo video ciao a tutti